Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Già, l'opinionista ha deposto davanti al giudice Loredana Galasso, trovandosi al centro di un processo in cui si è costituito parte l'ESA, un risvolto che getta un'ombra sulla sua carriera televisiva. Il suo accusatore è un 51enne di San Giorgio, precedentemente legato a una persona della famiglia Sperti, che ha apparentemente iniziato una campagna di minacce e comportamenti ossessivi nei suoi confronti, dando luogo a una vicenda ora al centro dell'attenzione mediatica. Rivangando un passato turbolento, datato tre anni fa, la Corte ha esaminato un insieme di messaggi inquietanti rivolti a Sperti. Le minacce, persistenti e destabilizzanti, hanno portato il noto personaggio televisivo a rivoluzionare le proprie abitudini, vivendo nell'ombra della paura e nell'ansia di potenziali aggressioni. L'esperienza ha evidentemente lasciato segni profondi nel vissuto dell'opinionista, che ha deciso di confrontarsi con questo dolore pubblicamente, cercando giustizia attraverso le aule giudiziarie. Conosciuto e apprezzato dal pubblico per il suo ruolo in Uomini e Donne, trasmissione pilastro della programmazione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi, Sperti ha sempre rappresentato un faro per i telespettatori italiani. La sua persistente presenza mediatica lo ha trasformato in una figura familiare, apprezzata e seguita nel contesto televisivo nazionale. Ora, con la scelta di rendere pubblico il suo doloroso percorso legale, Sperti dimostra quanto la questione abbia segnato la sua esistenza, e quanto sia forte la sua determinazione nella ricerca di giustizia. Durante il processo, la voce tremante ma decisa, ha condiviso con la corte il proprio calvario, è stato un periodo estremamente difficile per me. Le minacce hanno pervaso ogni aspetto della mia vita, costringendomi a vivere nel terrore di possibili aggressioni, e modificando radicalmente le mie abitudini quotidiane. Il caso continua a svilupparsi sotto gli occhi attenti dei media e dei fan, in un intricato broviglio tra vita pubblica e sfera personale, che sottolinea la vulnerabilità anche di coloro che sono abituati a vivere sotto la luce dei riflettori. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie 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 Grazie